quando sono troppi sono troppi ci si fa del male e basta non Grazie a tutti. 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 È uno sporco lavoro ma qualcuno deve poterlo. Eh sì. Allora. Vorrei mica la mano adesso. Dovevi proprio partire piano piano in cima lì. È perché è bella ripida. È un attimo che... È normale, è normale. No, no, no. Grazie a tutti. Grazie a tutti.